Avrebbe risolto i problemi di Cosenza l'impianto di selezione e trasformazione dei rifiuti che si avrebbe dovuto sorgere nell'ex mercato Orto Frutticolo di Vagliolise, tant'è che il sindaco Mario Chiuto lo presentò con toni entusiastici ad aprile. Il progetto avrebbe ricevuto anche il beneplacito del Movimento 5 Stelle, vista l'ottima idea di riusare i rifiuti secchi, ossia il 70% della spazzatura urbana, dopo averli trasformati in una sabbia sintetica che avrebbe potuto essere reimpiegata in altri modi. Ma a tutto questo l'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano, ha detto no. Le motivazioni mancano i soldi per realizzarle e soprattutto l'impianto sorgerebbe in pieno centro abitato. Questo è quanto dice la relazione inviata al sindaco Chiuto. Per Pugliano inoltre l'impianto non sarebbe risolutorio perché riuscirebbe a coprire solo un bacino di 300.000 abitanti, trattando dalle 70.000 alle 75.000 tonnellate di frazione secca. Poco insomma per la macro area Calabria Nord, tant'è che si sarebbero dovuti progettare altri due impianti. Altro elemento a sfavore, ha spiegato Pugliano, il punto in cui sorgerebbe il sito. L'ex mercato ortofrutticolo è infatti in pieno centro abitato. Ciò vuol dire che i tiri dovrebbero inoltrarsi nel tessuto urbano di Cosenza, rendendo il trasporto dei rifiuti poco agevole. Il no dell'assessore Pugliano non ha scoraggiato il Movimento 5 Stelle che ha risposto «Facciamo noi il centro di riuso con un azionariato diffuso, coinvolgendo i cittadini». Secondo i grillini, la stazione di trasformazione sarebbe stata una risposta concreta all'emergenza rifiuti calabrese, che per il momento si è solo assopita.